Due persone sono morti in un terribile incidente sull'autostrada 1, un inferno di fuoco sull'autostrada del Sole in direzione Bologna, all'altezza dell'uscita per Scandici, un tir carico di carta compressa, un camper e un'auto si sono scontrati, tutti i mezzi si sono incendiati causando la morte di due persone. Le vittime sono il conducente del tir e la passeggera del camper, avevano rispettivamente 50 e 60 anni. Marito e moglie stavano tornando a casa dall'Umbria dove erano stati per adottare un cane. Il cane è morto nel rogo insieme alla donna che era da poco diventata la sua nuova padrona.